Mi chiamo Chiara Buratti e collaboro con PT Cup. Oggi vi farò conoscere il track ospitali di Atlantis. Il track attualmente si trova in manutenzione negli stabilimenti PT Cup di Almese, a pochi passi da Torino. Andiamo a conoscerlo più da vicino. Dice che ci sono dei lavori in corso, oggi saliamo a bordo dal retro. Mentre in alternativa è sempre possibile salire anche da lato. Come vedete l'interno è molto spazioso. Questo salone è grande, circa 50 metri quadri. E laggiù c'è l'area bar. Qui ci sono tutte le attrezzature necessarie per fornire un buon caffè, un drink o un piccolo rinfresco. Solitamente davanti al bar vengono posizionati questi tavolini alti dove ci si può appoggiare mentre si beve un drink o si conversa. Ma se si desidera stare più comodi c'è sempre una piccola area lounge come questa. Come vedete è dotata di due sofà, un tavolino e degli elementi di arredo. Tutto questo naturalmente può essere personalizzabile come si vuole. Un'altra area lounge è questa qui dietro che può essere addivita a area vendita. Come vedete è dotata di uno schermo e noi l'abbiamo allestita con uno scaffale con degli oggetti in esposizione. Qui di bianco ci sono anche due uffici. Questi uffici sono dotati di computer, di stampanti, di prese elettriche e di tutto necessario per comunicare con i clienti nella più totale tranquillità e per lavorare a 360 gradi. Vi voglio ricordare che tutta l'attrezzatura è certificata secondo i sistemi di sicurezza europei. Ma il track non finisce qui. Perché c'è un'altra parte anteriore. Questa che adesso è l'allestimento e che comprende una cucina attrezzata, un'area di servizio per lo staff che può essere considerata come un ripostiglio e una toilette. Questo track hospitality è dotato di lampade LED, di schermi LCD, di aria condizionata e di riscaldamento. Il tutto alimentato da un generatore molto potente che riesce a fornire fino a 40 kilowatt. Tutte queste caratteristiche fanno sì che questa struttura sia una grande risorsa. Si è già stata utilizzata da diversi clienti PT Cup, tra cui Ferrero, Caffè Verniano e New Holland. In particolare, con queste strutture, nostra società ha dirigito in 2014, per le conto di Porsche Italia, il roadshow Porsche Macintur. Più di 10.000 km attraverso tutta l'Italia, non solo per le conto di villi prestigiosi come Rom, Milan, Florent, ma anche in piccola villi di Provence, suivendo le risultato dei dealers locaux. PT Cup ha seguito ogni fase della preparazione della giornata e ha fornito il servizio completo dei segretariati d'organizzazione. Per esempio, il risultato del plasso e l'attivamento del calendario, in accordo con il centro e Porsche loco, la gestione operazione delle riservazioni per gli essai, il rapporto per gli clienti e il feedback a Porsche Italia. Il è quindi evidente che l'esperienza Porsche delle 10 derniere anni ha stata intensa e importante. C'è per questo che noi ci siamo prati a accogliere un desafio così difficile. Per seguire questo progetto il migliore possibile, abbiamo l'intenzione di installare una base operazione a Lyon, con un gruppo di 3 persone di nationalità francese, che saranno chargati di coordonare le roadshow con i dealers locaux. Il TRAC sarà completamente messo in ove con una soluzione grafica extrema particolaremente captivante. In più, dei spazi speciali serviti ai enfants e a l'exposizione delle voiture saranno realizzati a l'extruttore del TRAC. Un struttore particolare, un acier e un vero, sarà servito a la boutica Sélection. Per in più, vi invito a leggere il documento scritto che vi ha stato envoyato con questa video. Petitcap è quindi pronti a investire in France con una presenza directa, per essere ancora più prognosti di Porsche e di Porsche France. E allora, a bientot, e merci di questa occasione.